Ha preso il via la Primavera Pachinese 2022 Arte, Musica, Sport e Cultura. Ha preso il via la Primavera Pachinese 2022 Arte, Musica, Sport e Cultura promossa dall'amministrazione comunale di Pachino. Tutte le associazioni e gli enti partecipanti hanno sfilato in corteo e accompagnato dalla banda musicale, mentre nel pomeriggio di ieri in piazza a Pachino Rowing and Special Olympics. I mesi di maggio e giugno vedranno le piazze Vittorio Emanuele e quella regina Margherita, oltre all'ex cinema Diana, quali luoghi e degli eventi inseriti nel fitto calendario della manifestazione. Hanno aderito oltre 25 associazioni e 3 istituti scolastici della città. Questa manifestazione, dichiara la sindaca Petralito, cade in un periodo purtroppo ancora travagliato da situazioni preoccupanti a livello mondiale e può aiutare nella strada verso il cambiamento della nostra comunità, mettendo al centro le persone e le relazioni che si instaurano fra di esse, perché sono le persone che vengono prima di tutto e che consentiranno alla nostra Pachino del domani di non smarrirsi, di non perdere la propria anima, che è fondata sul lavoro, sull'onestà, sulla tenacia, sul coraggio di chi ci ha preceduto. Pachino ripartirà, ne sono certa. Pachino ripartirà, ne sono certa.